Ancora carcasse di animali scaricate illecitamente nelle campagne della Murgia a Coratina. L'ultimo ritrovamento risale al tardo pomeriggio di domenica scorsa, quando una pattuglia delle guardie ambientali d'Italia, in un giro di pattugliamento lungo la strada cosittetta mediana Murgia, si è imbattuta in alcuni sacchi di pastica contenenti decine di carcasse di galline. I corpi degli animali erano stati illecitamente smaltiti in aperta campagna, quasi certamente per evitare di pagare i costi di smaltimento. Difficile individuare i proprietari degli animali o chi eventualmente ha scaricato le loro carcasse. Quel che più interessa ora è capire l'origine della morte di un numero così elevato di volatili. Sono infatti stati disposti accertamenti sulle cause di morte delle galline. Qualora siano state stroncate da un'epidemia, il dato sarebbe di particolare interesse anche per la salute dell'uomo.